Un piano operativo per l'abbattimento delle liste d'attesa negli ospedali siciliani. L'Aggiunta regionale ha approvato il documento predisposto dall'Assessorato alla Salute che delinea una strategia di intervento per smaltire nel più breve tempo possibile le prestazioni in sospeso. Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano complessivamente a 48 milioni e mezzo di euro previsto il coinvolgimento anche delle strutture specialistiche private convenzionate a supporto del sistema sanitario pubblico. Il documento è stato presentato a Palazzo d'Orleans nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche l'Assessora alla Salute Giovanna Volo e i dirigenti generali dei Dipartimenti per la pianificazione strategica e per le attività sanitarie Salvatore Iacolino e Salvatore Requirez. Secondo l'Assessora Giovanna Volo il piano consente di utilizzare al meglio le risorse a disposizione che arrivano alla Sicilia anche dalla legislazione nazionale per poter smaltire le prestazioni che hanno subito un consistente rallentamento negli anni della pandemia ma anche a regime di implementare il sistema. Tra i pilastri portanti del piano la condivisione delle liste d'attesa all'interno degli ambiti territoriali di garanzia che hanno dimensione provinciale coinvolgendo anche i soggetti privati con l'introduzione del meccanismo della mobilità dei pazienti a livello sovra aziendale una volta ottenuto il loro consenso e anche l'utilizzo di strumenti informatici innovativi ad hoc per la bonifica e la gestione delle liste d'attesa. Infine la definizione di una nuova struttura organizzativa basata su tre livelli il primo è la costituzione di reti aziendali per il recupero delle prestazioni il secondo è l'istituzione di un osservatorio per il recupero delle prestazioni di area metropolitana uno ciascuno per le province di Palermo, Catania e Messina e la creazione di un osservatorio regionale di recupero delle prestazioni che monitorerà l'avanzamento del piano e che sarà guidato dal dirigente della pianificazione strategica. Il nostro obiettivo di lungo termine, ha detto il dirigente Iacolino è quello di organizzare un sistema performante che valorizzi tutti i soggetti che fanno parte del sistema sanitario dell'isola di fatto la sanità pubblica ricorre ancora una volta ai privati l'assessorato alla sanità evidenzia infatti di avere già trovato un accordo che abbatte del 10% le tariffe relative ai rimborsi per i ricoveri chirurgici nelle cliniche e strutture private per lo sfoltimento delle liste d'attesa. Grazie Grazie Grazie